Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno insieme, è ufficiale, serata agli amici e poi pranzo con il figlio a Milano. Melissa Satta e Matteo Berrettini sono usciti allo scoperto. La coppia che secondo i rumor si starebbe frequentando da mesi. Si è lasciata immortalare nel giorno del compleanno dell'ex velina. La Satta ha organizzato una festa tra amici in un locale di Milano e tra gli invitati spunta proprio il tennista. I due sono stati immortalati dal settimanale Chi, ma sono anche tante le Instagram Stories degli invitati che li ritraggono insieme per la prima volta. Beppe Vessicchio ha un occhio nero, incidente a Sanremo. Fedez, ecco cosa gli è successo. Ilari Blasi e Bastian Muller a Roma, lui ha dormito a casa di Totti. Melissa e Matteo sembrano fare sul serio. La coppia, dopo essere andata via insieme nella notte ha trascorso la domenica in compagnia del figlio di lei. Madax, il bambino di otto anni ha avuto dal matrimonio con Boateng. Chi ha immortalato tutti e tre a tavola in un ristorante di Milano. Fino a quando poi non sono usciti insieme e si sono diretti a casa della Satta, per passare il pomeriggio insieme. I due potrebbero essersi conosciuti a un qualche evento sportivo visto che condividono la grande passione per lo sport. Sebbene siano molto affiatati per ora, c'è chi ha puntualizzato sulla differenza di età. Melissa ha infatti appena compiuto 37 anni mentre Berrettini ne ha 27. Siete. Siete. Grazie.